Che altro ti dirò? La grazia e pace dello Spirito Santo sia sempre nel mezzo del tuo cuore. Metti questo cuore nel costato aperto del Salvatore ed uniscilo a questo Re dei nostri cuori, che in essi sta come il suo trono reale per ricevere l'omaggio e l'obbedienza di tutti gli altri cuori, tenendo così la porta aperta a ciò che ciascuno possa accostarsi per avere sempre e da qualunque ora dienza. E quando il tuo gli parlerà, non ti dimenticare, mia carissima figliola, di fargli parlare ancora in favore del mio, a ciò che la sua divina e cordiale maestà lo renda buono, obbediente, fedele e meno meschino di quello che è. Carissimi, pace e bene a tutti voi e buona giornata sotto lo sguardo, sotto la protezione del nostro amato Padre Pio da Pietrelcina. E ancora una volta Padre Pio ci dona dei consigli molto preziosi per la nostra vita spirituale e per la nostra vita quotidiana. E c'è questo particolare invito che oggi Padre Pio fa, dice proprio così, dice «Metti questo cuore, il tuo cuore, il mio cuore evidentemente, metti questo cuore nel costato aperto del Salvatore ed uniscilo a questo Re dei nostri cuori, che in essi sta come in suo trono reale per ricevere l'omaggio e l'obbedienza di tutti gli altri cuori». Che bella questa frase, che profondità teologica, nella sua semplicità ha una profondità teologica. Sapete, questa è una considerazione che nasce certamente dall'esperienza personale di Padre Pio, ma nasce dalla scuola francescana. Tutti i nostri santi cappuccini, i nostri santi francescani hanno sempre considerato, ecco, questo cuore aperto di Gesù e hanno sempre immaginato di entrare nella ferita aperta del cuore di Gesù, come la colomba del Cantico dei Candici che si nasconde nelle fenditure della roccia. Così l'anima cristiana, come dicono i nostri santi francescani, così come ci dice il nostro caro Padre Pio, l'anima cristiana è come quella colomba che deve nascondersi nelle ferite della roccia per trovare riparo, per trovare realmente, ecco, l'ombra, no? Quando ce n'è bisogno. E noi dobbiamo, ecco, trovare riparo nel cuore di Gesù. Dobbiamo entrare, come dice Padre Pio, in questa ferita aperta del cuore di Gesù per trovare riparo nelle tentazioni, nei momenti difficili, nei momenti di sconforto, nei momenti di delusione, nei momenti in cui sentiamo che il combattimento si fa duro, da soli non ce la facciamo, da soli non possiamo andare avanti, da soli siamo deboli, fratelli miei. Ecco perché i santi ci consigliano di entrare nel cuore di Gesù, cioè pregare, fratelli miei, pregare, entrare in questa intimità realmente profonda e divina e costante con il Signore Gesù. Allora, entrare nel cuore di Gesù vuol dire proprio questo, no? Entrare nella vita di Gesù, diventare un tutt'uno con la vita di Gesù. E sappiamo bene come questo mistero si è realizzato anche misticamente nella vita di Padre Pio qui a Pietrelcina, nella chiesa madre di Pietrelcina, quando Padre Pio celebrava la messa, dopo la messa, nel momento del ringraziamento, ecco nel 1912 avviene il miracolo della fusione dei cuori. Il cuore di Padre Pio ed il cuore di Gesù diventano un unico cuore. Padre Pio dice Il mio cuore si perse nel cuore di Gesù come una goccia d'acqua si smarrisce nell'oceano. Allora, fratelli miei, auguro anche a tutti voi di fare questa esperienza profonda, l'esperienza di entrare e di rimanere per sempre nel cuore di Gesù e di vivere lì la nostra vita quotidiana. A tutti voi, pace e bene e santa giornata. A tutti voi, pace e bene e santa giornata.